Giochiamo con il calcolo mentale, un corso di formazione breve ma intenso per trasformare in maniera ludica le attività legate all'acquisizione dell'abilità di calcolo mentale nei nostri alunni. Tre sono i pilastri fondamentali intorno ai quali ruotano gli incontri. Il primo è legato all'apprendimento, che cos'è l'apprendimento, cosa favorisce l'apprendimento e cosa invece lo inibisce e quindi cosa dobbiamo cercare di evitare in classe. Il secondo aspetto è la motivazione, ossia come favorire la motivazione e l'apprendimento nei nostri ragazzi e come far fronte alla demotivazione soprattutto negli alunni con disturbi dell'apprendimento. Il terzo aspetto è pratico, come costruire attività da svolgere in classe, quindi un corso teorico pratico per imparare divertendoci insieme.